Oro più la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera ti aspettiamo in via Emilia 109 Fabio Colini buongiorno parliamo della fiera dell'ascensione lo sappiamo Pomponio ha scelto di organizzare un'assenza senza stand e spettacoli quindi all'insegna del risparmio lei da leader dell'Italia del rispetto ma soprattutto da commerciante che ha partecipato a edizioni passate della fiera di Voghera che opinione si è fatto della scelta del commissario? Sì buongiorno dunque io sono pienamente d'accordo su questa scelta e appunto vorrei ripartire sulla mia esperienza personale in quanto titolare della cartaria vogherese che è un'azienda che ha 35 anni che siamo in Voghera nel 2012 ho ritenuto che fosse necessario partecipare alla fiera per due ragioni Una ovviamente da un punto di vista di ritorno economico e dall'altra proprio per partecipare a una fiera a una rappresentazione che io credo della città Però ho avuto una secondo me triste delusione eravamo nel padiglione commercianti e artigiani 20 espositori di cui solamente 10 di Voghera mentre vedevo che c'è stato un grosso investimento nel reparto enogastronomico con anche stand che arrivavano da fuori della nazione addirittura Nel 2013 decido ancora di partecipare per i stessi motivi è peggiorata la cosa eravamo nel padiglione artigiani e commercianti 12 espositori di cui 6 solamente di Voghera quindi io mi pongo una domanda ma Voghera una città di 40.000 abitanti può essere rappresentata dal punto di vista artigianale e commerciale solamente da 6 espositori? Secondo me no, quindi credo che cosa sia mancata? Sia mancata quello che è fondamentale, una collaborazione fra comune e singoli artigiani e singoli commercianti Secondo lei perché comunque negli scorsi anni l'organizzazione della fiera ha faticato a trovare dei commercianti che volessero in un qualche modo partecipare con i propri stand all'ascensione? Parlo personalmente, in questi due anni l'ufficio fiaristico era aperto mi sembra dal mese di gennaio-febbraio e il comune attendeva l'adesione dei commercianti Io mi ricordo ma già da allora quando facevo parte nel 90 della Lega ma ancora prima quando ero ragazzino che l'ascensione è sempre un punto di riferimento Il comune attraverso un addetto che si occupava della fiera fin dal mese di settembre dell'anno prima andava in ogni singola azienda cercando delle collaborazioni con questo Secondo me è qui, non è vero che il commerciante e l'artigiano non ci vanno ma non viene stimolato Poi ovviamente c'è anche un discorso economico ma credo che se c'è l'intenzione di capire che l'assenza qui nel suo termine dialettico è la rappresentazione della cultura e del tessuto della città Credo che questo sia un collante per creare una condivisione Alcuni cittadini volgheresi si sono fatti avanti, si sono dichiarati disponibili a organizzare delle raccolte fondi per poter organizzare la fiera dell'ascensione al 100% Insomma senza la mancanza di questi stand e degli spettacoli perché ricordiamo che comunque mancheranno anche gli spettacoli Lei sarebbe a favore di questa raccolta fondi oppure no? Io sarei anche a favore però ripeto partirei da un punto diverso perché se in questo momento noi come cittadini io personalmente mi chiedono un contributo e io do il mio contributo E poi vado a vedere l'ascensione, mi sembra di essere l'Octoberfest, non sono d'accordo Grazie Grazie a voi Ok Porta la tua azienda in questo video JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi Chiama ora al numero 320 22 45 117 O scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte Grazie a tutti